il vaso dove muore la verbena da un colpo di ventaglio fu incrinato quel colpo allora l'ha sfiorato appena nessun rumore mai l'ha rivelato ma la sottile e fonda incrinatura mordendone il cristallo tutto intorno n'ha fatto il giro ahimè in una fessura che ha camminato un po giorno per giorno e l'acqua fresca a gocce se n'è uscita la linfa dei bei fiori s'è seccata ni una persona ancor se n'è avvertita non lo toccate è cosa rovinata sovente anche la mano di chittama sfiorando il cuore sbadata lo ferisce e il suo dolore che nessuno chiama fa sì che il fiore dell'amor perisce è sempre intatto agli occhi della gente ma la sua piaga cresce approfondita e il cuore la piange ormai costantemente ma voi non lo toccate ha una ferita ma voi non lo toccate